Siamo pronti qui, buonasera a tutti, con Rai e Francesco e Casino Vincenzo Vai vai, partiamo con il DJ Musica, musica ragazzi Attenzione, siamo pronti per partire Ecco qua, si balla, si balla Vai 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 vai, che non fermarti mai Oh 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 oh, venite nanti al DJ Rai a Francesco e Vincenzo Casino Oh 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 oh, si balla ragazzi Vai 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 Oh oh oh, baroni alla video camera Oh oh, baroni alla video camera Su le mani, su le mani Eh, eh, su le mani, su le mani Eh, eh, e se si roma in che si balla Oh 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 oh, siamo pronti si ferma alla musica E si parte con il DJ Ti ho detto Grazie a tutti